Allora, diamo di te le bracioni per me Ma secondo lei, secondo te, è normale questo cattino Hai dovuto dire qualcosa a te il capo? Scusa, lei è Enzo Battista Aspetta, dove sta? Aspetta, il tuo cittadino è bello, mi puoi inquadrare Ma che cos'è tutto questo cattino? Sì, siamo di te le bracioni per me Ma tutto questo, secondo lei, è normale questo cattino che sta qua? Secondo lei, è normale tutto questo cattino? È normale? Lei è anormale a lui Come te, come te Allora, normale come te Aspetta, basta Se me vuoi cantare Io cantierò se mi sento Tu mi timo È un'evento È un'evento È un'evento È un'evento Sì, non lo so, ma... Ma l'è sta qui? L'è sta qui? Non vuole fare niente da qui? Tu vuole fare niente da qui? Mi fai il vero culo che si vede! Una uccidione. Mi fai il vero culo! La scelta! Che c'è il numero! Oh, c'è il numero! Non mi fai il numero! Ehi, che tu me chieda se il carré?! Me chieda se il carré! ma insomma che così ecco così è guadagliosa grazie da sé musica maestro musica musica maestro 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 che mi vuole amare in un'ora più in un'ora più in un'ora più come i tuoi si può soffrire in un'ora più 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 si chiama il uno indietro in un'ora più через quello Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.